Oddio, un manichino, la testa, ehi, dove sono le magliette? Sono ormai da più di tre giorni che non rubo una maglietta. Credo di sapere dove posso trovarle. Mi sembra di intravedere un negozio dell'Halcott, ma costa troppo poco la roba. Una maglia di Marcello Burrò. Sarà mia. Ma Kenny, c'è Gabbana, Gucci. Ma perché invece un bel mercato? Grazie. Grazie.